Innanzitutto, good morning Genova, questa breve registrazione prenatalizia per rispondere a una domanda che tanti genitori, tanti parenti, amici si pongono, cosa regaliamo ai bambini o cosa regaliamo anche ai grandi. E qui la scelta è ampia, ci sono giochi di tutti i tipi per i bambini, giochi didattici, giochi di ingegno, giochi elettronici. Personalmente direi che il consiglio dei giochi che lasciano abbastanza spazio alla fantasia dei bambini non preconfezionati o anche giochi che aiutino soprattutto nei primi anni i movimenti motori fini. Quindi, cari genitori, non regalate quel meccano che piace a voi o quel gioco che vi piace tanto. Aspettate un pochino, anche se non è proibito fare un regalo con l'alibi del bambino, però almeno diciamocelo tra noi. A riguardo ai regali dei bambini vorrei focalizzare un po' l'attenzione su una cosa. Un regalo non deve essere per forza materiale. Un regalo può essere una cosa non materiale, un qualche cosa che non si vede ma che c'è e che dura nel tempo e che dura molto nel tempo. Uno dei regali più belli che possiamo fare i nostri bambini, che manca sempre di più, è il tempo da dedicare a loro, il tempo di gioco, il tempo dell'ascoltarli, ma anche e soprattutto di parlare, di essere presenti in modo attivo. A volte vedo nello studio gente che in sala d'attesa, mentre il bambino gioca a volte col cellulare, il papà e la mamma, per non dire entrambi, giocano sul loro cellulare. Si è insieme, ma non si è insieme così. Quindi il regalo è la nostra presenza e il bambino si ricorderà i giochi fatti insieme al papà e alla mamma. È vero che devono giocare con i bambini, però la nostra presenza è un dono che dobbiamo dare ai nostri bambini, ai nostri marito, moglie, compagni, ai nostri genitori. Il tempo è un dono. Un tempo è un dono e questo dono ci rimarrà. Ci rimarrà perché vengo adesso da un funerale di un caro amico, dal liceo che eravamo insieme, e mi sono ripercorso con la mente quanto tempo mi ha donato. E questa cosa rimane, mentre la cosa materiale non rimane più. L'altra cosa che vi prego, una cosa, un errore che ho fatto anche io, la mancanza di tempo, i sensi di colpa che come genitori a volte abbiamo perché dobbiamo lavorare, ma che senso di colpa? Si lavora per mandare avanti la famiglia, però il senso di colpa, c'è questa mancanza di tempo come cerchiamo di supplirlo con dei regali materiali. Quindi i nostri bambini hanno troppo del poco, hanno troppe cose materiali e hanno poco del tanto, che è il nostro tempo. Non solo questi regali in eccesso, a volte si anticipa il desiderio, basta che un genitore capisca che il bambino vuole che arriva, vuoi una macchinina? Anzi, te ne prendo due. Facendo così, non fate il bene a vostro figlio, perché gli togliete il piacere del desiderio, gli togliete il piacere che dà l'attesa di un dono, gli togliete anche il piacere di meritare un dono, perché guardate che quello che si apprezza di un dono a volte è il desiderio, l'aspettativa, il poterlo avere ma vedere che ancora non lo abbiamo. Pensate un po' anche a voi. Quando scegliete qualcosa, penso per me, per un computer, o un telefonino, la scelta, questo o quell'altro, quello è un momento a volte quasi magico. Quando lo avete siamo contenti, ma è finito. Lo stesso per le donne può essere un bel vestito o un qualche cosa che si desidera. L'aspettativa, non togliamo l'aspettativa, il desiderio, la voglia del gioco ai nostri bambini che sono pieni di giochi. Vedo delle camere pieni di gioco, a volte mi dicono, no, dottore, cosa ne facciamo di tutti questi giochi? Questi giochi non servono a sostituire il dono più bello che potete fare ai vostri figli. Il gioco insieme è il tempo. Con questo vi saluto, vi auguro buone feste, ma intanto che vi preparate per i regali, preparatevi per il regalo natalizzo. La sorpresa è il dono, il bambino se lo aspetta, ma quello che c'è intorno al dono, che vale di più del bene materiale, che è il vostro tempo. Ci vedremo a breve. Good morning, Genova, e alla prossima.